Mentre dalle ultime ricerche emergono dati poco rassicuranti sull'inquinamento, in particolare da microplastiche, rimane alta l'attenzione sul presente e il futuro del Po, il più grande fiume d'Italia, come testimoniato dal recente ingresso di otto comuni pavesi nel progetto Po Grande dell'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite che, come noto, protegge i patrimoni culturali di tutto il mondo e che, cinque anni fa, aveva elevato il corso medio e basso del Po al rango di riserva, inserendola nel programma Uomo e Biosfera. La riserva UNESCO va dalla Lombardia all'Emilia e fino al Veneto e si estende su circa 250 km di fiume ed è compresa tra le altre due riserve già presenti, quella della collina torinese e quella del Delta. Le azioni previste nei prossimi anni in quest'area prevedono innanzitutto mappature a tappeto della situazione attuale, ma riguardano anche servizi turistici, prodotti tipici, aree demaniali e boschi, aree degradate, siti produttivi dismessi, agricoli e non. Tra gli ultimi comuni che entreranno a far parte della riserva ve ne sono 11 nelle province di Ferrara e Rovigo e 8 in quella di Pavia. Si tratta di Portalbera, Arena Po, Campo Spinoso Albaredo, San Cipriano, Belgioioso, San Zenone, Spessa e Zerbo. Tutti questi comuni, molti lo stanno facendo proprio in questi giorni, dovranno, se lo desiderano ovviamente, manifestare l'interesse ad entrare a far parte della riserva all'autorità di bacino distrettuale del Po, che è anche promotrice di tutta l'iniziativa, che sarà presentata ufficialmente al Comitato Nazionale l'anno prossimo. Il piano d'azione mira a creare sul territorio tre tipi di reti, quelle di filiere, prodotti e servizi, di corridoi ecologici su acqua e su terra, di musei, biblioteche e patrimoni culturali locali. Alcuni progetti sono già stati realizzati, come il Portolano del Po, una guida digitale cartacea per la navigazione dal Ticino a Pavia fino alla foce del Po.